Gli schermi del futuro ben oltre l'alta definizione. In principio era il plasma, nel senso di TV piatta, ora lo schermo è anche curvo e ultra sottile, ma preparatevi, nessuno poteva immaginare che potesse diventare pure un foglio arrotolabile, che sono destinate a cambiare il modo di guardare la TV. Ecco, allora in questo salone c'è praticamente raccolto tutto il futuro del consumo della televisione dei prossimi decenni, non è così? Esatto, OLED 4K HDR. Cosa è OLED? TV non retroilluminato, non c'è alcun LED, TV spesso, pochi millimetri. Oggi presentiamo una TV spessa a 2,5 mm. Grazie a tutti. Dove stanno andando questi televisori e quali sono gli aspetti fondamentali o più rilevanti della nuova gamma? Nuova line-up OLED che viene introdotta da questo mese settembre nel mercato italiano, presentata ufficialmente qui a Difa all'insegna del design. LG Signo, tu, OLED, TV, rientra in questa filosofia di design minimal con tecnologie assolutamente uniche. Stiamo parlando di un visore che funziona come degli occhiali, quindi diciamo abbastanza leggero, quindi non c'è bisogno di avere una struttura particolarmente pesante per la testa. Grazie. 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 Grazie.